Gentili telespettatori, buona giornata. Ci abbiamo messo solo 20 minuti ed ecco che arriva la balla, la sciocchezza, la stupidaggine di Elena Schlein. Ci abbiamo messo solo 20 minuti. Ci abbiamo messo solo 20 minuti per attraversare lo stretto e passare dalla Calabria alla Sicilia. Solo 20 minuti. È vero o è falso? Ha ragione la Schlein. Attenzione, attenzione, ha ragione. Il tragitto della nave, traghetto, è di circa 20-25 minuti quando parte e quando arriva alla banchina. 20 minuti. Però dire ci abbiamo messo solo 20 minuti è di una superficialità imbarazzante. Infatti poi il deputato senatore della Lega Germana gliene dice 4 che adesso vi racconterò. Prima vi racconto la mia esperienza. L'ho fatto tante volte. Due volte sono andato col treno in Sicilia e le altre volte con la macchina. A Sesto San Giovanni, a Villa San Giovanni perdi, se ti va bene, mezza giornata. Perché tu arrivi con l'autostrada, devi uscire, scendere, entrare in città, andare al porto, metterti in una coda, andare a pagare, a comprare il biglietto, tornare in macchina e stare lì ad aspettare il primo traghetto disponibile. Ci può essere talmente tanta coda, come a un semaforo per esempio, dove quando parte il primo traghetto tu non fai a tempo a prenderlo perché si riempie di macchina e tu rimani ad aspettare il secondo o il terzo traghetto, soprattutto d'estate nei momenti clou. Quindi tu stai lì ad aspettare il primo traghetto disponibile, poi c'è l'imbarco, le macchine devono salire, devono sistemarsi, devono mettersi bene, poi dopo il traghetto parte e ci mette 25 minuti per andare dall'altra parte. Quando attracca devono poi attraccare bene, aprire il ponte, tu devi salire sulla macchina, esce una macchina poi alla volta chiaramente, una volta che poi sei uscito ti trovi in centro città, esci dal porto, ti trovi in centro città e poi devi andare a prendere di nuovo l'autostrada. Tutto questo che vi ho raccontato se vi va bene, se vi va bene è mezza giornata, ore. Nei momenti clou dell'anno, durante le grandi partenze, tu puoi stare lì anche tutto il giorno, 12 ore dalla mattina alla sera. Tu per andare in vacanza in Sicilia o dalla Sicilia per andare in vacanza nelle altre regioni, perdi all'andata e al ritorno, se ti va bene mezza giornata e mezza giornata e ti freghi un giorno, se ti va male ti freghi due giorni di vacanza solo per attraversare questi tre chilometri di tratto. Ma lei, la Schlein, ci abbiamo messo solo 20 minuti e dice così, 20 minuti allora non serve a niente sto ponte. Dice così, non serve a niente, lei esalta il viaggio sul traghetto per raggiungere la Calabria dalla Sicilia nel tentativo di dileggiare l'opera voluta dal governo Meloni. E così, dice questo, ci abbiamo messo appena 20 minuti, a dimostrazione del fatto che il ponte non serve. Mamma mia come stai Elena, mamma mia come stai, ci avrai mezzo, mezza giornata di tempo per fare tutta quella cosa che vi ho raccontato prima e lei poi ci abbiamo messo 20 minuti, il ponte non serve. Anche se fosse solo 20 minuti, passare il ponte senza più il traghetto, tu arrivi dall'autostrada, vai direttamente dritto, non esci dall'autostrada, ponte, in due minuti e mezzo l'hai passato. Anche se fossero 20 minuti, due minuti e mezzo. Ma qui si parla da mezza giornata, da 4-5 ore a 12 ore di tempo per andare dall'altra parte. E lei ci ha messo 20 minuti. Il breve viaggio che lei ha fatto una diretta social del breve viaggio, certo, quando parte il traghetto e quando arriva verso il pontile dice abbiamo messo 20 minuti, avete visto, avete visto, non serve a niente. Mamma mia che superficialità, è una superficialità devastante. Ma come fate a votare per il Partito Democratico con un capo politico di questo tipo? Ma davvero? Ma ditemelo, raccontatemelo. Non vi vergognate? No? Bah. E poi dice vogliamo fermarci ad ascoltare la voce della GENT, quello che serve davvero alla Sicilia e i siciliani, il ponte, il ponte. E poi tutte le altre infrastrutture che il governo Meloni sta mettendo in piedi. Ma a quel punto Nino Germana, senatore della Lega, proprio ieri dice ma o Elish Line si è confusa e ha preso un deltaplano o le si è rotto l'orologio o è salito a bordo di una nave Disneyland. Non trovo altra spiegazione alle dichiarazioni della segretaria nazionale del PD che definisce estremamente breve la traversata dello stretto sulla nave. I cittadini siciliani sono costantemente costretti a impiegare anche 12 ore di odissea prima di ritornare a casa. Se la sua è stata una battuta non ha fatto ridere milioni di cittadini che per raggiungere la Sicilia patiscono file, attese di ore e non hanno il tempo di godersi il paesaggio perché devono percorrere a piedi con bagagli e borsoni la strada per raggiungere il traghetto. Il tutto sperando di arrivare in tempo e non rischiare di aspettare sulla riva altri 45 minuti. Tra code chilometriche d'estate sotto le feste, sotto il sole, umidità, code chilometriche e tutte le procedure di imbarco e sbarco. Invece di parlare come una turista che si fa i selfie sullo stretto chieda scusa alle tante persone che da anni sopportano enormi disagi. Ma lei ti fa la diretta dei 20 minuti di attraversata. mamma mia come stai Elena, stai proprio maluccio eh? Mamma, ma come si fa ad avere una superficialità a questo livello? Cioè il capo del secondo partito italiano politicamente è zero, virgola zero, zero. Lo zero assoluto. Il niente politicamente è nulla. Arrivederci a tutti e grazie.